Conoscere, comprendere quanto accade in Medio Oriente, riflettere sulle ragioni di un conflitto che ragioni forse non ha, perché la guerra non ha mai giustificazioni, ma parlarne è importante. Per questo a San Marzano di San Giuseppe, presso il Palazzo della Cultura, si è svolto Guerra in Medio Oriente, convegno sulle prospettive di pace possibili. Abbiamo pensato di organizzare questo tipo di eventi perché riteniamo fondamentale l'apporto delle opinioni pubbliche occidentali nella vicenda che riguarda la Palestina. Riteniamo importante sensibilizzare non soltanto da un punto di vista dell'attivismo verso la pace, ma anche riconoscere e ricostruire le ragioni storiche, politiche e geopolitiche che sono la base del conflitto. I cittadini partecipano, ascoltano e si interrogano, esprimono le proprie opinioni, ma soprattutto sperano che la pace sia davvero possibile. Siamo perfettamente consapevoli che in quest'epoca in cui tutto gira sui social, il dibattito è concentrato quasi esclusivamente sui social, non è facile portare in un comune piccolo, un tema così complesso, di enorme complessità. Però siamo altrettanto convinti che il dibattito, soprattutto su cose così complesse, non si può ridurre soltanto sul piano dei social, ma deve ritornare nelle piazze o in questo caso negli ambienti chiusi, correlatori che lo fanno in maniera scientifica. E siamo convinti che possa servire ai cittadini e alle cittadine per farsi una propria opinione su temi così complessi, che comunque hanno una rigaduta anche sul quotidiano.